Gale 8 è stato Vasco Rossi il mega concerto allo Stadio Olimpico di Roma che ha riunito per la gioia di migliaia di fan Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Prematuro probabilmente parlare di ritorno di fiamma, tuttavia gli indizi lasciati dai cantanti sui social fanno davvero ben sperare chi ha sempre creduto nel loro amore. Oramai da quasi un anno la lunga relazione tra i due artisti sembrava giunta al capolini a contanto di comunicato ufficiale, anche se per il bene del piccolo Andrea, Gigi e Anna non si sono mai mancati di rispetto. Lei aveva cambiato casa etichetta discografica, ora però pare che la distanza con il cantante neomelodico si stia assottigliando, come mostrano alcune IG stories e video pubblicati direttamente sui loro social, infatti i due si sono goduti il concerto del comandante, seduti vicini con occhiali e cappellino in testa e si sono lasciati andare a sorrirsi e sguardi reciproci. Difficile in effetti non credere che tra di loro sia definitivamente tornato il sereno dopo averli visti così in sintonia, l'ufficialità manca però e i fan non aspettano altro. Il weekend scorso per Anna Tatangelo è stato segnato da un lutto che l'ha molto colpita, se n'è andata nonna Annita, 86 anni, e Gigi D'Alessio, immaginiamo, abbia voluto dimostrarle che nonostante tutto vuole starle accanto. Portarla al concerto di Blasco, farle staccare la spina, cantare e ritrovare il sorriso grazie al cantante di Zoc è stato un gesto di grande premura. Chissà se l'è ditata, ha ritrovato finalmente la fiducia nel suo compagno ed è pronta a vivere di nuovo l'amore come nelle favole.